buongiorno ragazzi benvenuti nel canale di camperisti nonno big house questo è un piccolo tutorial per quanto riguarda la vita in camper la scelta del camper giusto cosa portare cosa non portare suddiviso in varie lezioni che chiamo lezioni come prima lezione partiamo sul scegliere il camper giusto quindi come scegliere il camper più adatto alle proprie esigenze facciamo degli esempi e da lì poi eventualmente se volete consigli in privato o meno cercatemi su instagram mi mandate un messaggio una richiesta comunque di amicizia chiaramente io lo accetto fate la domanda io vi rispondo senza problemi chiaramente ci sono migliaia di domande ci sarà da aspettare un po comunque cerco di rispondervi in base alla mia esperienza quindi allora numero uno il camper va scelto in base a nucleo familiare animali domestici tipo di vacanza se mare o montagna sterrati o piuttosto che parcheggi campeggi libera libera si intende parcheggio dove capita poi approfondiremo anche il questo tipo di una tradizione questo tipo di parcheggio cerchiamo di capire che tipo di camper dobbiamo comprare dobbiamo acquistare quindi io partirei come esempio di me stesso io ho comprato direttamente il camper e ci sono andato sopra abbiamo fatto subito un viaggio senza neanche fare tagli anni o che cosa siamo presi siamo partiti direttamente col camper quindi il consiglio mio e mi sono sempre trovato bene mi è andata bene non lo so il consiglio mio è noleggiare un camper quindi quanti siamo siamo noi prendiamo come esempio una famiglia di tre persone quindi papà mamma figlio e anche un animale domestico un cagnolino un gatto piuttosto che altri animali insomma un animale domestico quindi 3 più 1 ok andiamo a noleggiare un camper che tipo di camper noleggiamo allora dove andiamo quindi dove andare montagna ok per andare in montagna è meglio andare con un van o comunque con un camper piccolo un 5 metri 40 quindi sono comodo su un van sono comodo su un 5 metri 40 ok dobbiamo provare quindi si noleggia un van il weekend si va si prova due giorni perché secondo me due giorni possono bastare per capire gli spazi o che cosa e la vita proprio in camper puoi capire se sei soffocato o meno chiaramente ci vuole comunque tanta adattabilità spirito adattamento per stare su un camper il weekend successivo si può noleggiare un camper leggemente più grosso un mansardato e magari andare anche nello stesso posto per vedere o comunque posti simili per vedere se comunque riesco a ad andarci a guidare e a farmi la mia vacanza in comodità perché chiaramente un mansardato ha anche già il letto fatto uno per esempio il mio aveva anche due letti a castello dietro quindi ci sono già quattro letti completamente fatti ora il van ha sicuramente i quattro posti sicuramente due letti in fondo a castello quindi sono già letti fatti ma chiaramente lo spazio si riduce pertanto dobbiamo appunto provare a fare questo tipo di vacanza una volta fatta questa vacanza allora posso cercarmi il camper quindi prediligo andare in montagna acquisto un van lungo corto un van se mi sono trovato bene in van chiaramente i prezzi cambiano specialmente adesso mentre se mi sono trovato bene chiaramente un mansardato acquisto un mansardato più o meno lungo perché comunque sia devo capire quanto tipo di vacanza anche faccio se devo stare via un mese 15 giorni due mesi un anno sabatico o quant'altro chiaramente più sto via più roba tra virgolette deve servire quindi magari un abbigliamento estate inverno quindi per tre persone occupa un po di spazio quindi ci sono tante rinunce ci sono tante 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 cose a cui rinunciare a livello di vestiti non posso portarmi dieci maglietti dieci paio di pantaloni per ogni persona cioè alla fine si deve cercare di alla fine si deve cercare di chiudere un po il rubinetto del portarsi dietro il guardaroba insomma quindi una volta scelto questo tipo di di camper allora possiamo dire ok la vacanza la facciamo proviamo abbiamo acquistato il camper dobbiamo anche vedere che tipo di camper vogliamo però il vintage oppure un camper già piuttosto recente o meno quindi il vintage chiaramente è un muro va dove vuoi è aspirato c'è anche il turbo però più cose si hanno più cose si rompono il detto è questo quindi un camper senza elettronica senza turbo vai dove vuoi e lo aggiusti con una chiave e un martello questo è il detto del camperista quindi una volta che si è fatte i taglianti e tutto quanto per poter partire si parte e si va lo stesso con un winter non bisogna avere fretta l'esempio è che io a 80 l'ora andavo con l'aspirato e a 80 l'ora vado con questo qua turbo certo che le salite e a posto di farle in prima e seconda come la faccio con quell'altro le faccio in terza e quarta con questo viene un po più semplice la guida con servo sterzo quindi ho più libertà di usare una mano sola per girare ci sono diversi fattori che sono da vedere quindi anche nella famiglia guida di più la donna o guida di più l'uomo quindi se la donna principalmente usa il camper sarebbe meglio usare un camper con servo sterzo oppure far mettere un servo sterzo elettrico su un camper vintage quindi sono tante particolari cose che bisogna fare attenzione se si acquista il camper bisogna andare con una persona fidata e quindi portarsi dietro una persona per poter scegliere il camper quindi la scelta del camper è fondamentale per tutto si si può comprare un camper se non si è magari truffati tra virgolette e poi rivendere se non piace allo stesso prezzo ci si smena solo il trapasso eventualmente perché il valore è quello comunque per questo è tutto nella prossima lezione parleremo dell'acquisto del camper quindi cosa guardare per poter acquistare un camper tra virgolette sicuro ok alla prossima lezione se vi è piaciuto il video giustamente iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdere le notifiche delle lezioni che successivamente avverranno sul canale con cadenza settimanale ed eventualmente appunto mettete un like e condividete il video grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti